Alla, buono il corridoio trovato, si fanno vedere in due, c'è Lozano che chiede palla in profondità, visto Lozano in area di rigore, infi, Lozano, 3 a 2, incredibile, in due minuti riapre la partita in Napoli, Lozano. Alla, buono il corridoio trovato, si fanno vedere in due, c'è Lozano che chiede palla in profondità, visto Lozano in area di rigore, infi, Lozano. 3 a 2, incredibile, in due minuti riapre la partita in Napoli, Lozano.